ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi parlerò di un map faremo una panoramica generale sullo strumento e cercherò di farvi scoprire le sue potenzialità mostrandovi alcune mappe che ho creato nel corso del tempo per le prossime settimane la mia intenzione è di pubblicare una serie di video tutorial partendo dall'utilizzo base fino ad arrivare qualcosa di più avanzato quindi che cos'è un map ma per un tool online open source che si basa su open state map permette la realizzazione di web map che possono essere personalizzate condivise inseriti anche nel proprio sito è un software molto intuitivo e permette di creare mappe professionali e anche senza avere esperienza nel settore oltre a livello privato è anche utile per professionisti pubblici amministrazioni ed enti locali le mappe potranno contenere quindi punti linee poligoni con l'aggiunta di testi immagini e possibili link a risorse web in questo modo grazie alle mappe è possibile dare vita a diverse forme di narrazione tra cui il viaggio raccontato tappa per tappa l'itinerario di un'escursione o il territorio svelato attraverso i suoi punti di interesse quindi un map è molto utile anche in ambito professionale lavorativo come vedremo poi in qualche esempio bene iniziamo a vedere un mappa andiamo nel sito quindi dito in google un map la prima voce che mi esce un map quella qui e vado quindi a fine nel sito che è un mappa punto prestito mappa punto fr allora se io non accedo all'interno quindi se io non voglio comunque fare una mappa nuova posso comunque visualizzare vedete le mappe di tutti gli utenti quindi se noi andiamo a vedere ad esempio delle mappe molto semplici fatte da qualche utente non so ne apriamo un paio vedete lo caso abbiamo semplicemente dei marcatori con il testo e vedo un link ad un altro sito vogliamo andare a vedere qualcos'altro apriamo un altro paio che qua molto semplice di piccoli marcatori con solamente dei testi questo qua vedo delle presumo ci sono delle strade anche qui quindi capite che un map può essere utilizzato ovviamente anche a livello già molto basso molto semplice mettendo veramente poche poche formazioni ok volevo adesso in questo caso farvi vedere invece per accedere all'interno di un map quindi per creare qualcosa di nuovo di personale per accedere e o registrarsi nel caso ovviamente che non abbiamo con l'account possiamo farlo attraverso quattro fornitori quindi github bitbucket twitter o d'opel state map entriamo nel mio account che è twitter vi faccio vedere due o tre comandi essenziali per creare una mappa quindi vado in crea una mappa mi trovo da avere qui uno sfondo lo sfondo ovviamente può essere cambiato ho a disposizione molte basi open state map quindi passo dall'open state map ad esempio l'open state map umanitaria quella in grigio in gray interessante abbiamo ad esempio l'open top map che viene utilizzata soprattutto per evidenziare la parte diciamo rilievo quindi la parte montagna e poi ne ho delle altre ad esempio la osm dark e così via torniamo alla osm normale di base vedremo nelle prossime lezioni come si fa a inserire gli elementi qua vi accenno in velocità che avremo tre possibilità di inserire gli elementi la maniera diciamo più semplice diciamo per gli utenti base è di digitalizzare di creare gli elementi direttamente in un map quindi posso utilizzare i punti ma che vedete semplicemente questa maniera potrò fare delle linee quindi seguire le strade dei canali dei percorsi ed elementi poligonali per chi invece lo utilizza diciamo in maniera più avanzato o ha dei dati che provengono dall'esterno abbiamo il comando importadati con importadati ho la possibilità di importare quindi dati che mi provengono da vari formati posso avere il jjson il csv quindi un formato testo il gpx che è il formato che mi esce dal gps il kml quindi sapete tutti il formato di google art usm da open state map e poi geo rss umap quindi tutto quello che io posso avere esternamente lo posso tranquillamente importare e visualizzarlo in automatico in un map poi c'è un altro anche maniera un altro sistema ancora più avanzato di utilizzare un map è attraverso il controllo remoto di collegare magari una tabella un file che io modifico già esternamente può essere modificata ad esempio un file open data di un sito o un mio file personale magari su google drive quindi in maniera dinamica quello che vado a modificare sul testo mi apparirà poi in automatico all'interno di un map comunque queste sono cose che vedremo nei prossimi video adesso volevo farvi vedere un po' di esempi su dei lavori che ho fatto io nel corso degli anni per farvi vedere anche la possibilità di utilizzare un map in maniera più avanzata quindi torniamo un attimo alla lista dei progetti quindi ad esempio scrivo Londra 2019 vedete mi appare nella lista il mio progetto umap allora questo è un umap è un progetto, una web map fatta come vi dicevo nel 2019 ed è relativa al viaggio fatto a Londra ecco in questo caso vedete che è molto utile e anche simpatico avere la possibilità di raccogliere i ricordi, le foto, gli itinerari del proprio viaggio in questo caso ho diviso per livelli quindi ho sei giorni quindi ho fatto sei livelli per ogni giorno gli itinerari, i punti interessi visti quindi quando clicco su una semplice map che mi viene fuori in questo caso ho associato la foto Campton Town, Sanford Bridge del Chelsea in questo caso Tower Bridge tutti elementi puntuali ho fatto anche un paio di elementi lineari che sono questi tratteggiati quindi ad esempio la croceva sul Tamigi la passeggiata è lungo il Tamigi quindi punti e linee una cosa molto semplice ma veramente molto simpatica comoda per andare a rivedere un po' quello che abbiamo visto durante una vacanza quindi questo è un utilizzo diciamo privato, familiare andiamo adesso a vedere qualcosa di più legato diciamo al territorio raccontare qualcosa del proprio territorio e andiamo a vedere la pista delle Risorgive che è una pista ciclopedonale che collega l'Adige al Mincio e questo è un progetto bello corposo che ho creato all'interno del mio ufficio quando è stata già realizzata questa pista il progetto è stato seguito è stato realizzato dal consorzio e poi successivamente è stata fatta questa web map vedete che qui abbiamo veramente un sacco di elementi quindi abbiamo attracciato pista attraversamenti, le piazzole, i parcheggi, gli autobus e così via quindi elementi puntuali con icone personalizzate in questo caso ad esempio l'icona del traversamento con semafori traversamenti con segnaletica punti interesse quindi con foto associata poi elementi alle strutture, relativo alle strutture ricettive quindi vedete che in questo caso veramente è un map è una web map bella presente di elementi cosa importante da dire è che questi elementi qua sono anche condivisibili quindi io posso essendo comunque per stream map un map un progetto comunque relativo sempre agli open data ho la possibilità di salvare i dati quindi posso salvare l'intera mappa posso salvare i dati in vari formati geogeson gpx e kml questo itinerario è stato fatto non partendo da un gpx ma lavorandoci direttamente e digitalizzando in QGIS ok altro esempio che voglio farvi vedere sempre relativo all'aspetto all'aspetto lavorativo è l'applicazione homeup del consorzio relativo alla gestione dei reti canali vediamo un attimo se lo becco subito eccolo qua consorzio bonifica veranese e reti idrografica in questo caso abbiamo tutte quante le reti idrografica tutta la rete idrografica gestita dai consorzio quindi rete canali rete rigua in CLS rete pulverigua e il confine consorzio quindi in questo caso ho diviso per tre reti pulverigie e colori ho messo poche informazioni quindi basta cliccare il canale e mi da in questo caso mi interessava solo per mettere il nome e basta una cosa molto semplice che però è molto utile anche agli utenti e ai contribuenti per vedere un po' insomma il canale che può esserci magari nella propria zona ecco qua un comando che voglio farvi vedere e una possibilità anche di filtrare il nome quindi se io voglio ad esempio da qui di cercare non so lo scolo dugalone vedete lui mi fa la ricerca col filtro eccolo qua me l'ha trovato faccio la zoomata ed eccolo qua scolo dugalone ecco quindi ora possiamo andare a fare il filtro su tutti i livelli anche in questo caso abbiamo dato in consorzio la possibilità di scaricare i dati quindi come dicevo prima KML GPX GeoGeso poi un altro esempio sempre relativo a un aspetto professionale è la possibilità di fare anche qualcosa di interessante relativo ad esempio a dei censimenti vi farò vedere un esempio vediamo un attimo idranti eccolo qua un lavoro che fatto per il comune di sua campagna in collaborazione con un amico collega architetto ed è censimenti idranti in questo caso sono stati censiti all'interno del territorio comunale parte l'area attesa ammassamento l'area ricovero quindi parliamo comunque relativo all'argomento protezione civile anche l'idrante quindi l'idrante non funzionante che sono quelli rossi vedete con l'iconcina personalizzata idrante non resistente idrante non verificato anche in questo caso di ogni idrante il suo idrante la tipologia la sua scheda e la foto che anche qua con imperial link ingrandiamo quindi un altro utilizzo in questo caso a livello diciamo comunale a livello territoriale ecco un'altra cosa qui è stata fatta anche oltre la foto vedete la possibilità di collegare un pdf e qui parte la scheda ecco qua la scheda del pdf relativa a quell'elemento quindi capite che per ogni elemento che io vado a fare posso comunque agganciare una foto in questo caso abbiamo fatto un semplice pdf l'ultimo esempio che volevo fare che è un test diciamo che ho fatto nei mesi scorsi che dovrebbe essere vediamo con foto l'ho chiamata mi sembra prova foto ecco la possibilità di collegare qua ho fatto un semplice punto casuale di collegare anche qualcosa di multimediale quindi un video youtube ok o un audio o un video mio quindi un video che ho caricato nel mio sito quindi un video in questo caso è un mp4 quello qua quindi capite che oltre alla foto che abbiamo visto fino adesso abbiamo la possibilità veramente di caricare anche elementi multimediali quindi dare ancora più valore a qualcosa che andiamo a fare dentro bene concluso spero che un map possa essere di vostro interesse aspetto eventualmente qualche commento e prossimamente sicuramente come vi dicevo creerò dei video più dettagliate proprio sull'utilizzo dello strumento vi ringrazio vi saluto e ciao a tutti grazie a tutti